Nessuno disprezza gli orari del caos più dei sedessi al Vindicator E per meglio punire il nemico Musica Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche Ben tornate alla vostra domanda fondamentale La domanda di oggi che ci pone un nostro caro amico è Cos'è Warhammer Conquest? Ora, Warhammer Conquest in realtà molti di voi già lo conoscono Perché sta uscendo in edicola eccetera eccetera Però visto che alcuni ancora ci si pongono questa domanda Perché magari erano rintanati in alcune parti del mondo In angusti scantinati piuttosto che tane O antri del paesiellici o meno Cos'è Warhammer Conquest? Warhammer Conquest non è null'altro che un'uscita settimanale di fascicoli Con allegate delle miniature di Warhammer 40.000 L'opera si chiama appunto Warhammer 40.000 Conquest E in quest'opera abbiamo dei simpatici fascicoli Che ci aiutano ad approcciare al lobby Quindi in edicola settimanalmente O tramite abbonamento una volta a mese con una spedizione Poi qualcuno in realtà mi dice che a seconda di dove abita Potrebbero arrivare con più o meno ritardo Abbiamo questi bei fascicoli Cosa troviamo all'interno di questi bei fascicoli? All'interno di questi bei fascicoli troviamo il background Quindi troviamo un po' di storia Riguardo ovviamente il nostro 40.000 In particolare in questo caso Visto che i modelli sono abbastanza recenti Si parla dei nostri amati Space Marine Contro la Guardia della Morte Quindi puzzoni di Nargol Ok Quindi si narrono i fatti tendenzialmente più recenti Nel nostro universo di Warhammer 40.000 Quindi abbiamo i nostri Space Marine Soprattutto gli Ultramarine Impegnati appunto in questa campagna E ci racconta un po' come sta andando Ovviamente è un'uscita Un'opera questa Rivolta principalmente a quelle persone Che ancora non conoscono Warhammer 40.000 Quindi è studiata ovviamente Per avvicinare le persone al nostro mondo Come dicevo appunto Ci sono bellissime immagini Illustrazioni, foto di miniature Primaries soprattutto ovviamente in questo caso E poi ci parla un po' anche Delle vecchie storie Quindi si parla anche un po' di chi era l'imperatore Chi erano i primarchi eccetera eccetera Vi faccio vedere un po' di capitoli Per esempio e tutto quanto Ma non solo Qui non abbiamo soltanto tutte le storie Poi non so se riuscite a vederlo Non apprezzate Ci sono i buchini ovviamente Perché sono dei fascicoli raccoglitori In cui poi tutta l'opera può essere Facilmente ovviamente letta E apprezzata Ma non solo In tutto questo abbiamo anche Ovviamente Una parte Che qui non c'è Il primo fascicolo Che è dedicata in realtà anche alla pittura Quindi ci sono anche Delle mini guide Possiamo chiamarle così Sulla pittura Il collezionismo Il gioco eccetera eccetera Quindi questo per esempio Il primo fascicolo Era legata a una Tre miniature in realtà Non mi ricordo Sembra di piggi Intercessor C'erano tre appunto Che campeggiano qui di fronte Pierla anch'io Ovviamente i tre intercessor Direttamente qui Da assemblare Ovviamente Non aspettiamoci Lo dico soprattutto Per chi già Conosce bene quest'hobby Miniature Da scatola Normale da negozio Sono in realtà Easy to build Quindi solitamente Quella incastro Per facilitare Ovviamente si avvicina il gioco Deve vedere Qui c'è la pulce Dalla seconda uscita Con varie altre cose Eccetera Perché è interessante? Beh appunto Perché ci sono In particolare Questo numero qui Che è il numero 5 Un modello In edizione limitata Quindi un modello Che è acquistabile Soltanto Acquistando il numero 5 Di Warhammer Conquest Altrimenti Questo modello Di sergente Space Marine Non lo trovate Da nessun'altra parte Ok Questo eroe particolare Lo trovo soltanto qui In questo numero Ben sigillato Oltretutto Ovviamente ci sono Possibilità anche Di abbonamento Come tutte le opere In edicola Abbiamo la possibilità Di abbonarci Per riceverlo a casa In quel caso Ovviamente Games Workshop In collaborazione Con la Ashet Se non ricordo male Sì Con la Ashet Tendenzialmente Ci Da dei regali Quindi solitamente Attrezzi da modellismo Piuttosto che Questo Uno dei poster Scusate Abbiamo anche dei posteroni Se volete appenderli Nelle vostre case E farle più belle Con ovviamente Momenti di massacro Dedicati al 40.000 Ok E avete la possibilità Qui ovviamente Poi ci fa vedere un po' Non so se riuscite A apprezzarlo Comunque anche Sulla pagina Facebook Nostra O comunque in generale Esiste anche una pagina Facebook dedicata A Warhammer Conquest Trovate il piano dell'opera Quindi tutto quello Che compreso Abbiamo ovviamente Tutta una fazione Di Space Marine Dedicati in particolare All'ultramarine Ma che in realtà Poi potete dipingere Un po' come volete Ovviamente tutti i primaries In questo caso Quasi tutti i primaries In realtà mi pare Qualcosa non primaries C'è Qui abbiamo poi I puzzoni di Nargol Tutta una parte Di scenici Molto bella Colori Pennelli E poi C'è la possibilità Di avere ricchi premi Quotiglione Ovviamente tutte Attrezzature al gioco Dadi Piuttosto che Tappetini per giocare Non vi aspettate Chissà che cosa Non sono i battle map Quelli che troviamo In negozio Ma sono di carta Però comunque Roba interessante Dovete pensare Che sono studiate Queste uscite Tendenzialmente A parte chi come noi È malato di collezionismo Ah ecco la parte Che non trovo Prima Movera mostro Chi come noi È malato di collezionismo Trova un sacco Di roba interessante Ma ovviamente Dedicata in realtà A chi ancora Robby non lo conosce Uno anche perché A livello economico Mi pare che Si spenda comunque Qualcosa in meno Rispetto che non A comprare Gli stessi modellini Edicolo Ovviamente qui La scelta è limitata Le cose sono limitate Perché giustamente La scelta è uscita Qui dicevo la parte Che mancava prima Oltre a tutta la parte Di lore Di background Di storia Di ambientazione Eccetera Abbiamo tutta la parte Dedicata al modellismo Qui è semplice Voglio vedere L'utilizzo delle tronchesine Come senza ucciderci Tagliarci pezzi di dita Farangi Polpastrelli Eccetera Si possano Ovviamente Togliere miniatura Dello sprue Come poi vanno Spulite Assemblate Con i vari passaggi Qui c'è lo schemino Di assemblaggio In quella pagina qui Piuttosto che poi C'è la parte Dedicata alla pittura Con tutti I vari passaggi Dedicati Non so quanto Poi si possa vedere bene In ogni caso Se avete poi foto Che approfondite Ce le chiedete E poi Ovviamente Nel senso Il gioco Perché è bello Anche giocare Quindi condividere amici E fare Tendenzialmente Tenete presente Che si può Anche volendo Condividere in due E quindi dividendo le spese Quindi anche se Dici già È relativamente economica Perché le prime uscite Se non ricordo C'erano offerte promozionali Tipo la prima uscita Era tipo 2 euro Una roba del genere Le altre ogni uscita Sono 10 euro 9 euro 90 Una roba del genere Ed è molto interessante In questo senso Qui vedete Un altro Questo l'ho aperto Di quelli limitatissimi Ok Piuttosto che poi C'è una polla interessante Pensate che è 9 euro 90 A cui vi porto a casa Un eroe Che magari il negozio Vi costa un pochino di più Però Secondo me Al di là Del risparmio economico Quindi che possa interessare Magari qualcuno Bioavido di noi Esattamente È un bel inizio È un bel modo Di iniziare quest'hobby Perché nel senso Soprattutto immagino Chi non abbia vicino Un po' che succede Non averne vicino Un negozio O comunque Un gruppo di amici In cui ci si può trovare Regolarmente A dedicarsi Al nostro hobby Avere comunque Un'uscita Che settimanalmente Vado alla mia edicola Del mio paesino Sperduto in mezzo a niente O del mio paesiello Giusto per fare nome Ho sentito un tuono Un wewe da lontano Scusate Dicevo È anche un bel modo Questo comunque Di fare hobby È come se qualcuno Ci seguisse Poi siamo noi Ovviamente Voi ci scrivete Noi facciamo video Come questo Ci fate le domande Eccetera Eccetera È molto interessante Dicevo Ci sono diversi aspetti Poi Devo dire Anche per i non più giovani Che non è la prima volta Che GV Si approccia A questa cosa La prima Il primo esperimento In edicola Fu questo In realtà questo è stato Uno dei raccoglitori Stesso discorso Usciva settimanalmente Dedicato a Warhammer Fantasy Non solo per dire Roleplay Scusate ma In questo senso Il tema che stiamo giocando un po' Ma ne parleremo presto Warhammer Fantasy E qui abbiamo un sacco Di roba bella Qui tra l'altro Ho preso già Il secondo volume Invece del primo Perché giustamente Non avevo messo i numeri Quando ero giovine Comunque C'erano queste belle uscite Qui già suddiviso Ovviamente c'è tutta la parte Di background Quindi vedete già Nel suo raccoglitore Nel raccoglitore dedicato Con l'opera Come per Warhammer Conquest Tutta la parte Ci racconta Delle varie fazioni Ilfi silvani C'erano quelle delfi oscuri I guerri del caos Con tutto Ovviamente bellissime foto Di miniature Qui scusate Poi ho fatto dei divisori Un po' rustici Perché con gli anni Li ho distrutti Piuttosto che Regole per giocare Quindi come si funziona Come funziona Con queste determinate regole Anzi no Questi scusate Sono gli scenari Quindi ci dicevano Vuoi provare a fare questa battaglia A reinterpretarla Quindi ti davano anche Proprio delle missioni da fare Quindi tematiche Che dovevi portare a casa Quindi non era Non era soltanto Annichilire l'avversario Scusate Ci vedete bene Ma che bello Ma che bello Non era soltanto Annichilire l'avversario L'obiettivo strategico Quindi anche lì C'era una cosa interessante Poi avete Tutta la parte Di modellismo Pittura Piuttosto che Ai tempi I nostri Non più giovani Diversamente giovani Di oggi Per esempio Non c'erano tutti gli scenici Pensate che Il massimo Della scenografia A un certo punto Che potevi avere Era questo Per dire Questo era un tappetino verde Tipo quelli del presepe C'erano ovviamente Poi le colline Tipo quelli del presepe Ok Noi giochiamo Con quella roba qui Pensate Quindi roba Anche antignisana Per certi versi Ma ci si divertiva A pacchi comunque Perché si trova In modo sempre Di divertirsi Quindi vedete C'era tutto il discorso Poi della pittura Modellismo Eccetera eccetera E Plus Per chi se lo ricorda Malus Darkblade Malus la maniera C'era il fumetto Poi di Malus Dark Detrato dal romanzo La maledizione Di questo Magari ve ne farò parla Del paesiello In una delle sue Sennò poi mi dice Che non fa niente Già cerca di introfolarsi Ovviamente Nelle mie rubriche Come al solito E quindi Cerca di fare il bullo Ma non ce la farò Cioè questo è il primo esperimento Stesso formato Ovviamente era con la De Agostini Invece con la Shetty In questo caso Warhammer Fantasy Uscivano miniature Uscivano colori Uscivano pennelli C'era ovviamente Molto meno Tendenzialmente rispetto ad oggi Però Comunque era tanta bella roba E anche qui Era il modo di approcciare Poi tenete conto Che in quel periodo qui Non c'era l'internet Come lo intendiamo oggi Quindi non tutti ce l'avevano Non c'era veramente poco Forse non c'era neanche Ma era comunque diffuso Come lo intendiamo oggi Un secondo esperimento Molto bello Anche se finito Non benissimo Dal mio punto di vista Questo Adorabile Bellissimo Del Signore Dianelli Qui Un po' Perché comunque Dovete far presente Che non è roba GV Nel senso che Signore Dianelli Sapete che arriva Da signor Tolkien E dalla società Tokeniana Che piglia I big money Dalla GV Per ovviamente Lasciare utilizzare Tutto quello Che è il suo Marchio Qui era già diverso Vedete che non ci sono Quei bellissimi anelli Come nel primo raccoglitore Quindi hanno ballato Un po' più a spese Tant'è vero che Poi pensate Questi sono i fascicoli Il peso dei fascicoli Ovviamente Gravava sulla colla Che teneva Il cosino di cartone Appiccicato a questo Quindi tendenzialmente Era da mangiare Con molta cura Però comunque Molto bello Anche questo Qui avevamo Sempre Lo solito discorso Il solito formato Scusate Con miniature Che uscivano Un interno fascicolo Qui Tra l'altro Come C'era ovvio Tutto il sommario Con le mappe Della terra di mezzo Roba per me Appassionato di Tolkien Come tanti altri Bellissima Qui c'erano ovviamente I fascicolini I fascicolini Usciva il fascicolo Dove appunto Con tutte ovviamente Le immagini del film Del signore I anelli Quindi tutta una bellissima Miniature Tratte dal film Avevamo poi tutta la parte Qui ecco Un po' meno background Diciamo che Serviva meno Un po' più Conosciuto Discorso di Sirenelelli Qui si ripercorreva Più che altro La storia Della compagnia dell'anello Quindi dalla partenza Tendenzialmente Fino un po' All'arrivo a Montefatto O Montefatto Per altri versi Quindi c'erano parte Di gioco Di regole Di modellismo Pittura Eccetera Quindi ovviamente C'erano i Goblin I Goblin di Moria Quelli di Becchio Stile Pacchi Quanti Goblin di Moria Pacchi di Goblin di Moria Quindi gli scenari Che ci facevano vedere Erano bellissimi Ovviamente Per le nostre capacità Dell'epoca Per molti di noi Per la maggior parte di noi Era roba Inavvicinabile Come potenzialità E poi ti dicevano Ti è piaciuto Perché nelle prossime uscite C'è anche roba Ancora più fica No? Perché dicevano Miniature Poi anche in metallo Qualcune anche dedicate Soltanto a quest'opera Quindi in edizione Diciamo limitata E tutto Quindi GV L'ha fatto negli anni Non recenti Ovviamente Quindi prima di tutto Con il nostro Amatissimo Warhammer Fantasy Poi con il signore E oggi Lo star rifà Signore e signori Con Warhammer 40.000 Questo non era mai successo Prima in realtà Quindi la novità di Conquest Possiamo dire E' anche questa Dicevo E' un bellissimo modo Per avvicinarsi Con una spesa Relativamente modica Comunque nel senso Tenete conto Sono 10 euro la settimana Quindi nel senso Ovviamente Non faccio Non vengo a farvi conti in tasca Però diciamo che 10 euro Settimanalmente Per un hobby Possono essere anche Comunque Diciamo una cifra Abbastanza abbordabile In questo senso Per quanto ovviamente Non siano bene Di prima necessità Interessante Perché c'è tutta la parte 20 di background Quindi è bello leggere Imparare Sapere in che ambientazione Siamo Quindi non è soltanto Dei pupazzetti Dei soldatini Che si stanno dando Gli schiaffi O le mani in faccia Ma abbiamo ovviamente Tutta una serie di personaggi Che stanno combattendo Con un ideale Con un'idea Con una volontà Di ottenere qualcosa Piuttosto che Semplicemente Di sopravvivere E poi ovviamente Cosa non da poco Tutta la parte legata All'hobby Tutta la parte legata Alla pittura Alla modellismo Quindi è anche Di base Quelle cose Che magari Potremmo anche dare Per scontate Proprio qui Secondo me Fanno delle cose Bruttissime Perché ve lo dico Resti tra noi Il signor Giovanni Workshop Non ne deve sapere nulla Ma il fatto che Almeno qui Da quello che vedo Mi vanno a dipingere Direttamente sulla plastica Senza dare il primer Questo signori Non si fa Non si fa Signori Si dà il primer Sennò poi vengono Delle zozzerie Della mannaggia Che te le racconto Però vabbè Comunque nel senso Il concetto È che è molto interessante Ci sono ovviamente È una buona base Anche dicevo prima Per crearsi un esercito Ovviamente vi devono piacere Questi due eserciti Qui perché Altrimenti capite Che diventa un po' Inutile la cosa Molto bella Anche il fatto Che si possa fare in due O comunque si possa collezionare Perché poi C'è la possibilità Ovviamente Di prendere anche Come dire Dei tomi Edizioni limitate Miniatori edizioni limitate Quindi anche sul lato Collezionismo Siamo messi molto bene Ma non è finita Perché abbiamo visto Ovviamente la parte del passato Abbiamo visto il presente Ma esiste anche un futuro Esiste qualcosa Chiamato Mortal Reams Che cos'è Mortal Reams? La stessa cosa Che abbiamo appena vista Ma fatta per Age of Sigmar Quindi per il fantasy Al momento In Italia Non è ancora distribuita Quindi al momento In cui vi parlo io Almeno Ancora non c'è Stanno sperimentando Nelle terre di Albione Quindi limitatamente Al mercato inglese Se ovviamente Sarà una cosa Che arriverà anche Se si presupponessi Ovviamente Dovranno fare un po' I conti su Quelli che sono I dati di vendita Anche di Conquest Nel nostro paese Si spera che siano Siamo stati abbastanza buoni Da fargli venire voglia Di distribuire Mortal Reams Anche da noi E anche lì Abbiamo visto cose interessanti Per approfondire l'argomento Come sempre Potete farci delle domande Potete andare a vedere Il nostro Canale YouTube Il nostro La pagina Facebook Il nostro profilo Instagram Piuttosto che Scriverci Vederci Tra l'altro Siamo anche spesso Fiere eventi Invitateci Noi ci vediamo Nel senso Se riusciamo Volentieri Quindi possiamo fare anche Un sacco di belle cose Insieme E per quanto riguarda Warhammer Conquest Spero di aver risposto Alla vostra domanda fondamentale E ci vediamo Alla prossima puntata Ciao